eccoci qui cari amici di giorgio il mare io vi volevo ringraziare perché è nato è nata una community siamo un canale ci sono dei nuovi iscritti che volevo salutare ai quali volevo dare un benvenuto un importante benvenuto e dire grazie perché su questo canale non troverete niente di speciale se non delle piccole avventure sulla mia barca vela che si chiama paloma e tanto mare vi porterò in giro per la laguna veneta per tutto il nord adriatico vi porterò a fare delle traversate con una barca di 7 metri dove ci dormo di solito tutta l'estate dove ci vivo dove ci mangio e dove ci porto i miei amici la mia famiglia e quindi sarete con barca barca solo barca e la passione è tanta e non molla mai per questo io sono sempre alla ricerca del costante contatto con l'acqua con il mare con la natura con il verde come quello che vedete qua dietro come con queste barche non mi importa che si allunga 7 15 20 30 250 300 metri certo un debole per le piccole barche a vela questo sì non per le derive ne ho avute tante mi piacciono ma per le barche da crociera piccolini ho sempre avuto questa passione e così vi farò vedere potete andare sul mio canale a vedere come le ho risistemate insieme a manuel che è un grandissimo tecnico a vedere come cambiano nell'aspetto come cambiano anche diciamo nel modo di essere interpretate nel senso che non sempre faccio crociere ma certe volte usciamo anche solo per una veloce prova del vento e così siamo qui oggi in un lago in un meraviglioso lago che fa qualche chilometro da casa mia pochissimi per la verità e così insomma vi volevo ringraziare per esservi iscritti al canale giorgio e mare non sarà il canale di un professionista di vela ma di un umile appassionato come voi e insieme avremo modo di vivere una grandiosa estate insieme a paloma manuel saterland che il nostro comune la laguna veneta il nord adriatico la croazia la slovenia e questo meraviglioso meraviglioso direi posto sud tirolo alto radice serenella puoi salutare gli amici di giorgio il mare rihanna puoi salutare gli amici di giorgio il mare molly puoi salutare gli amici di giorgio il mare insomma sarà interessante parlare di relax molly molly cosa cos'è 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 molly guarda chi è molly cosa è no no c'è la barca non vedi però si è riempita troppo d'acqua la barca non c'è la barca non c'è la barca quindi io non sono youtuber esperto non voglio neanche essere uno youtuber e avere un miliardo di follower non mi interessa io voglio solo creare un piccolo gruppo di amici che con grandissima passione condivide un boxing i lavori sulla propria barca e magari qualche segreto qualche consiglio e io sono anche qua per prenderne quindi se vi va seguite questo canale mettete un like alzionate la campanella fate un commento vola paloma vola io sarei felice così e mi avete capito insomma che avete la mia stessa passione la mia stessa voglia di avventura e la mia stessa voglia di mare grazie grazie stiamo crescendo e sono veramente fiero e felice cresciamo insieme a paloma e soprattutto vola paloma vola ciao grazie a te 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 che grazie a te Grazie.